L'ho seguito abbastanza bene, l'ho seguito abbastanza a pari passo e è arrivato ad avere una soluzione intelligente dell'emergenza, perché comunque il problema rimane seguito come il produttista e il tuo collega di parte, comunque detto questo, la connessione che ho letto e da una sforza intelligente ha un problema che rimane comunque capito.